La via francigena potrebbe diventare patrimonio dell'umanità. È l'obiettivo del percorso che ben sette regioni d'Italia, Toscana, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, si sono assunte e che hanno formalizzato con la firma del protocollo d'intesa per l'inserimento dell'antica via dei Pellegrini nella lista dei patrimoni unesco. La Toscana è capofila di questo percorso e per la nostra regione rappresenta un passo importante anche per lo sviluppo e la valorizzazione dell'offerta turistica e cicloturistica dei grandi itinerari pedonali e ciclabili regionali. C'è una grande tendenza verso un turismo diverso, un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo che è molto più legato ai territori, ai luoghi e alle persone che in questi territori abitano. E' certo che una candidatura di questo tipo potrà portare un avanzamento. Sappiamo bene che la roadmap, il cammino, prima la candidatura e poi il successo, sarà molto lungo, ma ce la metteremo tutta. La firma del protocollo per la candidatura della via francigena a patrimonio unesco è arrivata a conclusione del convegno che si è tenuto tra venerdì e sabato a San Mignato e dedicato alla via francigena e a quei cammini magari meno noti, ma di attrettanta valenza spirituale e culturale che anno dopo anno richiamano nella nostra regione un numero sempre maggiore di pellegrini. Oggi chiaramente la francigena è l'elemento, il tratto distintivo di maggiore evidenza di questa progettualità condivisa, ma insieme a questo il cammino di Francesco ed altri ancora, la Romea Strada ed altri, stanno diventando occasioni di valorizzazione di tutta la nostra campagna, dei nostri borghi. Anche per quanto riguarda il turismo sulle due ruote in Toscana non c'è che l'imbarazzo della scelta. Basti pensare ad esempio alla ciclopista dell'Arno che una volta completata unirà 4 province e 60 comuni e il PRIM, il piano regionale integrato infrastrutture e mobilità, prevede anche la realizzazione di una ciclovia della francigena. Noi abbiamo un percorso in via di definizione, anzi in via già di progettazione che è stato presentato al Ministero negli scorsi giorni, che è quello forse più lungo, più importante, è una direttrice europea che parte dalla Norvegia ed arriva fino a Malta, attraversa l'Italia, attraversa la Toscana, scavalca gli appennini, scende verso Firenze e si congiunge sulla ciclopista dell'Arno e il sentiero della Bonifica per andare poi verso sud. Questa importante infrastruttura ciclabile si connette poi al sentiero della Bonifica e alla ciclopista dell'Arno, che ci porta dal Casentino fino alla Foce, fino al mare. E qui di nuovo una importante connessione con la ciclopista tirrenica. Nei prossimi giorni verrà firmato un protocollo con la regione Liguria e con la regione Lazio per iniziare a progettare e quindi per richiedere dei finanziamenti che possono permettere di creare questa importantissima via ciclabile lungo la costa. Grazie per la visione!